Gentili telespettatori, buona giornata. Lo strano caso della giunta per le immunità parlamentari. Chi vince con il pareggio? La domanda sembra un po' surreale, ma in politica la matematica è un'opinione come un'altra. Proprio ieri alla giunta per le immunità del Senato ha vinto Salvini, però ha perso. Ha vinto la maggioranza, anche se non si è presentata al voto, ma forse ha perso. E forse Italia non si capisce se ha vinto o ha perso come Fratelli d'Italia. C'è una totale confusione, ma sotto ci sono dei giochi politico-elettorali. Se si fosse svolto tutto in maniera normale, 12 persone del governo, 10 persone dell'opposizione, le 12 persone avrebbero votato per processare Salvini come avevano preannunciato e avrebbero autorizzato il processo, ma sarebbe poi dovuto passare, come adesso passerà, dal Senato il 17 di ottobre, dove ci sarà la votazione finale, la votazione reale, se processare Matteo Salvini o no. È lì che si decide. Ma non è andato nulla come doveva andare. Era matematico che Salvini diventasse l'imputato, perché la giunta matematicamente doveva processarlo. 12 contro 10. Non c'è storia. Ma invece no. Succede tutto e tutto il contrario di tutto. Tutti vincono e perdono in un giochino che nessuno ci ha capito quasi più nulla o forse è fin troppo chiaro. Il governo non si presenta perché i sondaggi hanno detto attenzione, attenzione che questo per voi è un grandissimo autogol, un assist per Matteo Salvini per stravincere le elezioni in Emilia-Romagna. E nella governo hanno detto come, 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 come? Eh sì, perché le persone si mettono sempre dalla parte del più debole, sempre. E proprio nell'essere umano, non solo in politica, ma sul lavoro, in famiglia. Quindi anche in questo caso porterà un sacco di voti a Matteo Salvini. Si sono spaventati e hanno cercato in tutti i modi di posticipare questa data. E non ci sono riusciti. Perché proprio due giorni fa hanno detto no. Il 20. E così hanno detto come è possibile. Adesso come facciamo? Più importante di tutto è la regione Emilia-Romagna, dicono i democratici, Dem. E i 5 Stelle seguono, sì, 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 seguono così. Perché non hanno una loro posizione. Per loro va bene tutto. Va bene incarcerare Salvini, va bene vincere in Emilia Romagna, far vincere in Emilia il PD. Loro sono lì che dicono quello che è l'importante è danneggiare Matteo Salvini. Questo è. Sta di fatto che proprio una settimana fa, nella giunta per le autorizzazioni a procedere, il grillino arriva con dei referti medici di alcuni migranti per cercare, attenzione, per cercare di aggravare la situazione di Matteo Salvini. Pensate che bella persona. Arriva con delle carte l'ex alleato per cercare di far processare e convincere gli altri a far processare Matteo Salvini. Salvini, una bella personcina questa, non le hanno neanche accettato questi documenti e hanno gridato al complotto, chissà che cosa hanno gridato, di tutto di più. Non hanno accettato lui e i suoi documenti per cercare di colpire ancora di più Matteo Salvini. E così Zingaretti il giorno prima, al 19 pomeriggio, dice ma attenzione, ma voi credete veramente che noi siamo delle persone di quel tipo lì che vogliono eliminare politicamente Matteo Salvini con le manette? Ma non scherzate, ma non ci pensate proprio. Ma come potete pensare di noi una cosa del genere? Ma come potete pensarlo? Stava preparando il campo al giorno 20, perché già si erano messi d'accordo in gran segreto i capetti della maggioranza per non presentarsi e far vincere l'opposizione, cioè non processare Matteo Salvini. Ci sarebbe stata solo l'opposizione, lì, nella giunta, i dieci dell'opposizione che avrebbero votato tutti e dieci per non processare Matteo Salvini, perché il numero minimo nella giunta è otto persone. Dieci giunta perfettamente funzionabile e funzionante avrebbero comunque salvato Matteo Salvini, che era quello che voleva la maggioranza senza presentarsi dicendo che quel giorno era illegale, che era tutto illegale, una roba, una buffonata per arrampicarsi sui vetri. E non ci sono riusciti, non ci sono riusciti perché alla fine è passata la linea del processo a Salvini, perché cinque della Lega hanno votato per processare Salvini, su richiesta di Salvini, e gli altri, Fratelli d'Italia e Forza Italia, hanno votato per non processare Salvini. Cinque contro cinque, pareggio, chi vince in politica col pareggio vince quelli che vogliono processare Matteo Salvini. Quindi la matematica è un'opinione come un'altra in politica. E così è successo tutto e il contrario di tutto. Tutti hanno vinto, tutti hanno perso. E la domanda che vi faccio, Matteo Salvini ha vinto o ha perso? Qual è la sua strategia? Ovviamente non quella di finire in galera, non ci mancherebbe altro. Matteo Salvini ha vinto, ha fatto un clamoroso assist o un clamoroso autogol? Si è tirato la zappa sui piedi perché i suoi legali gli hanno detto, ah no, 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 e poi no, non dire processatemi, non dire ai senatori di votare per il tuo processo, perché sai quando entri in un processo e non sai quando esci e non sai proprio quando esci magari dalle sbarre, dalla cella. Quindi contro l'opinione dei suoi legali, tra cui la buongiorno, lui ha deciso di testa sua processatemi. Quindi Matteo Salvini ha vinto dicendo processatemi o ha perso perché sta rischiando veramente la galera? Oppure non la sta rischiando perché lui sa perfettamente che il senato facendo dei calcoli, dei numeri, conoscendo le persone, gli hanno detto che voteranno per non farlo incarcerare? Quindi il suo dire processatemi è solo una mossa elettorale anche la sua o realmente o sa di comunque di poter che al senato non passerà mai o che il giudice adesso, perché tra oggi e la votazione in senato al 17 deve tornare tutto l'incartamento a Catania, dove a Catania dovranno di nuovo valutare se archiviare o no, che lui sappia comunque che non arriverà mai al processo e allora ha detto ditegli di processarmi così magari vinciamo anche le elezioni in Emilia Romagna perché i sondaggisti dicono così che se c'era l'avvio del processo dell'iter per processarlo sarebbe stato un autogol per la sinistra, quindi la domanda è Matteo Salvini ha vinto o ha perso? Il PD sicuramente ha perso perché loro adesso sono in svantaggio nelle elezioni, non è che sono in svantaggio, hanno fatto un autogol, devono recuperare l'autogol, a cinque giorni c'è un autogol, quello di processare Matteo Salvini che gli porterà più voti, così dicono i sondaggisti tutti. Quindi il PD sicuramente ha fatto il suo autogol, i cinque stelle vabbè lasciamo perdere, come dice Salvini hanno il 5-6%, non serve neanche stare lì a parlare di loro perché si sono praticamente autoeliminati da soli. Come dice Sgarbi, Beppe Grillo ha mandato un vaffa ai suoi elettori, li ha mandati a quel paese e gli elettori sono andati a quel paese, in un altro partito. Quindi Movimento 5 Stelle e PD perdono, Salvini vince o perde? Questo è il dilemma. Intanto parliamo anche di Gasparri che cita eccebombo. Tutto parte dalla relazione del presidente forzista Maurizio Gasparri che chiede di negare l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti. Come accade nei referendum che regolamente mandano in tilt milioni di poveri elettori, chi vota sì dice no al processo e viceversa, per il sì e quindi per il no in teoria ci dovrebbero essere i leghisti, visto che a fine nei guai ci sarebbe il loro capo Matteo Salvini. Forza Italia, Fratelli d'Italia. Per il no e quindi per il sì, in teoria ci dovrebbe essere la maggioranza. È abbastanza complicato, vero? Solo che tutti si scambiano il posto, come nel vecchio gioco di carte presidente, dove si alternavano presidenti, re, miserabili e pezzenti. A un certo punto la confusione è talmente grande che Maurizio Gasparri, rinchiuso dal barbiere, cita eccebombo e dice tutti giocano, a mi si nota di più se non voto, quello che è certo è che io voterò la mia relazione. Punto fermo importante, altrettanto decisiva la successiva riflessione. Io posso anche dire che oggi è martedì, ma se oggi è lunedì è lunedì, incontrovertibile. Quindi anche Maurizio Gasparri è entrato in un circolo confusionale che dice ma se è lunedì è lunedì, sì, no, io comunque voterò per non processare Matteo Salvini perché mi state solo confondendo, non ci sto capendo più niente, perché Salvini prima non vuole essere processato, poi dice processatemi, come vi dicevo prima, vince o perde Salvini? Chi lo sa, chi lo sa. E Gasparri dice io per non diventare pazzo voterò quello che avevo deciso per non processare Matteo Salvini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, e non comporta null'altro che un sostegno al canale. E nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche poi in Facebook, nella pagina Tele Italia dove trovate tutti i nostri video che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. In internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.